Tragedia sulle strade del Salernitano. Un uomo di 72 anni è stato travolto e ucciso mentre percorreva in sella la sua bici la statale 18 nel territorio di Bellizzi. L'incidente è avvenuto a poca distanza dal cimitero inglese. La vittima un cittadino di nazionalità marocchina è morta sul colpo. Fatale lo scontro con una Fiat Panda guidata da un Salernitano. Ancora non è chiara la dinamica dello schianto, forse una distrazione del conducente dell'auto che ha anche trascinato senza volere il 72enne per alcuni metri. L'impatto è stato così forte da sfondare il parabrezza del veicolo. Inutili soccorsi da parte delle ambulanze del 118. Medici e sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso dello straniero. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Battipaia per i rilievi del caso. Partite le indagini che dovranno ricostruire le modalità di quanto accaduto, sequestrati i veicoli, mentre la salma è stata liberata.